C'è un po' di prato nella vita del compianto presidente del Parlamento Europeo, Davide Sassoli. La madre, la signora Ghelardi, era originaria di Galciana e con questo quartiere pratese il figlio Davide aveva sempre mantenuto un rapporto speciale, mantenendo negli anni amici e parantele, nonostante tanti impegni istituzionali. Il circolo di Galciana era tappa fissa per Davide Sassoli nelle sue frequenti visite pratesi. Qui tutti lo conoscevano e qui oggi tutti piangono la sua prematura scomparsa. È una giornata di lutto, sì, veramente. Una giornata che ci ha trovato tutti impreparati a questa notizia perché è veramente tragica. Qui lo conoscevano tutti, è venuto diverse volte, era ben voluto quando si vedeva, era lui che cercava il rapporto con tutti. Io lo ricordo una persona attenta a tutto, al sociale, ai problemi della vita di tutti e quindi una persona molto molto sensibile a tutto, veramente. Io credo che al di là della perdita, una grasa perdita per la famiglia, sono convinto sia una perdita per l'Italia e soprattutto per l'Europa. Una delle doti maggiori era che sapeva ascoltare le persone e poi le trasformava in politica. Cioè era uno che si dava da fare per i cittadini, non per se stesso. Portava la politica, le questioni dei cittadini le portava in politica e cercava di risolverle per tutti. Lei è un parente di Sassoli? Sì, sì. Mi dispiace spiegare quello che è lei, mi dispiace. L'ho dato a conoscere, non l'ho conosciuta, perché me lo disse anche i Rosati e le ho portato diverse volte qui e non sono venuto io, almeno un paio di volte. Lei sperava di incontrarlo? Sì, speravo di incontrarlo, sì, perché anche lui mi voleva conoscere, anche io ho saputo io, tramite il presidente di circolo. Perché eravate parenti? Sì, le mamme le erano cugine, le lardi, tutti e due, e nonni le erano fratelli. Grazie.